Torniamo a commentare una vittoria netta, importante, figlia di una prestazione maiuscola. Sì, esatto. A parte i cinque gol è stata veramente una bella prestazione. Una squadra con gli equilibri che fondamentalmente erano quelli che ci stanno mancando ultimamente. Equilibri che oggi ci sono stati nonostante la squadra a chiara trazione anteriore, no? Sì, sì, però è stato un discorso organizzativo, cose semplici, niente di che. Però oggi, a differenza di altre partite, siamo riusciti a metterle in atto. È stata anche una giornata sostanzialmente, non dico di riposo, ma tranquilla per te e per Mattia Boben. A parte qualche guizzo di Caturano che è un giocatore importante. Sì, diciamo che abbiamo gestito abbastanza bene. Non siamo stati impegnati più di tanto, però meglio così. Ti faccio due domande da Capitano. Riparte oggi il Pescara verso i play-off? Anzi, è ripartito oggi. Io me lo auguro. Comunque, al di là dei risultati negativi, è sempre stata una squadra che lavora bene, in settimana lavora bene. Purtroppo in questo momento, quando lavori bene, ma raccogli poco, sai, lasciano il tempo che trovano. Però oggi è stata la dimostrazione che comunque stiamo bene, che i ragazzi nuovi sono integrati bene. Ci hanno dato subito una grande mano, quindi hanno fatto i complimenti anche a loro, senza dubbio. Proprio l'ultima da Capitano. Come giudichi il gesto che ha fatto Facundo? E per Facundo, intanto, l'Escano, il gol e poi quel gesto ai tifosi come a scusarsi? Beh, diciamo che la situazione per Facundo è stata forse anche ingigantita. Fondamentalmente è un bravo ragazzo. Poi il mercato, diciamo, è sempre particolare. Però per noi... Il mercato che è cattivo in queste fasi. Il mercato è sempre cattivo, diciamo, delinea aspetti magari anche che non ci sono di alcuni ragazzi. Fondamentalmente il ragazzo è un ragazzo pulito, un ragazzo tranquillo, che lavora bene. Quindi sono sicuro che ci darà una grossa mano qui alla fine.